Proseguono i malumori dei titolari dei negozi situati all'interno dei centri commerciali. Il ponte dell'Immacolata e le chiusure imposte dall'ultimo DPCM per festivi e prefestivi hanno fatto perdere importanti giornate lavorative a queste attività. A causa di ciò, gli stessi proprietari lamentano danni economici significativi in un mese decisivo come quello di dicembre. È una situazione assurda che noi dobbiamo stare chiusi nei centri commerciali i giorni festivi e prefestivi, il che ha voluto dire che ultimamente sono stati chiusi 4 giorni sabato, domenica, lunedì e martedì per l'Immacolata con perdite enormi di vendite. Io ho fatto acquisti pensando alla fine di novembre, pensando di non vivere questa assurdità. Dico riprendiamo a lavorare, non dico normalmente, con le nostre misure di sicurezza come ci sono in tutti i posti, soprattutto nei centri commerciali che possono venire qui tranquillamente e lavorare in sicurezza. Abbiamo vigilanti, abbiamo termoscanner, entrate condigentate. Tutto ciò però, non so perché, ci impediscono di lavorare nei festivi e nei prefestivi. Considera che siamo chiusi dal primo di dicembre alla Befana, circa 15 giorni di chiusura subiamo. E i giorni che sono più importanti per i nostri incassi, per i nostri fatturati. Ci ritroveremo a pagare delle ricevute bancarie o forse anche a non pagarle alla fine di gennaio perché non avremo i soldi per far fronte agli acquisti fatti per il mese di dicembre. Una cosa inaudita e inaspettata, io spero e mi appello ai nostri governanti affinché ci ripensino e valutino la situazione reale, quella che è. Noi abbiamo già perso otto giornate di lavoro a novembre, regalate così allo Stato senza nessun tipo di ristoro e questo qui di dicembre è un decreto che ci penalizza tantissimo. Perché noi l'8 di dicembre è una giornata molto importante, diciamo che dicembre è il mese più importante per noi soprattutto in questo periodo in cui c'è stata una crisi del settore grandissima. Era l'unico mese in cui possiamo cercare di recuperare le perdite e facendo questo decreto qui penalizzandoci festivi e prefestivi a noi ci ha tagliato le gambe perché non è un discorso di fine settimana, è un discorso purtroppo di festivo e prefestivo quindi significa che siamo chiusi la vigilia di Natale, che saremo chiusi il 31 perché l'1 è un festivo per la Befana fin qui e andando avanti fino al 15 di gennaio. Quindi sono perdite enormi per noi nel nostro settore anche perché è un sacrificio che si tiene solo a noi commercianti del centro commerciale mentre negli altri negozi sono aperti addirittura fino alle 9 e i nostri che sono negozi in un centro commerciale dove c'è il termoscanner dove c'è le persone contingentate e contate veniamo penalizzati ed è una cosa che secondo me non ha senso. È un provvedimento assurdo, tenuto conto intanto che non c'è lo stesso orientamento per i negozi che sono all'interno di una galleria e quelli che sono fuori. La stessa definizione di galleria o di centro commerciale è un divaga quindi è uno strumento inapplicabile che penalizza però i commercianti in un momento in cui le vendite potevano essere il toccasana per un anno disastroso dal punto di vista economico e invece questo provvedimento ha fatto figli e figliastri. Quindi è un provvedimento che come Commercio abbiamo contestato subito le nostre federazioni nazionali sia Federmobili che l'associazione che rappresenta la gran parte dei negozi di elettrodomestici e del bianco insomma ha protestato, ha chiesto una modifica ma il governo e il ministero insomma non ci sentono. È un dramma, è un dramma anche perché a fronte di questo non ci sono adeguati ristori, aiuti per le imprese e rischiamo con questi provvedimenti di peggiorare una situazione già disastrosa con la possibilità che molte aziende chiudano nei prossimi mesi.